Sì, è fantastico di lasciare uno spazio. Piano, davanti! Ascente l'assistra, addirittura la prima è volata per i 3-6. Mi dovete toccare! Addirittura al disdotto dei 3 minuti al chilometro, abbiamo detto che abbiamo indicato i 29 minuti finali per la confusione di grana. Il primo, primo, è arrivato primo, grande! Ecco i primi tre! Anzi, questi tre atleti che hanno portato sempre alla gara tutti e tre al di sotto dei 39 minuti. Vedete quanto ampio sia il mangio di l'antaggio che hanno preso nei confronti di tutti gli altri seguitori. Ed ecco, anche da riconoscere ancora via... Vi metti ancora, volete fare un saluto a tutti internet, a tutti su internet. Ciao! Buongiorno a te, ciao! Ciao, grazie a voi!